ciao ciurma e bentornati sul canale siccome molti di voi mi chiedono spesso cosa vuol dire la parola ciurma oggi vorrei fare un breve video per spiegarvi il significato di questa parola sicuramente avrete notato che all'inizio e alla fine dei miei video nelle stories e nei post sui social media dico sempre ciao ciurma la parola ciurma indica l'equipaggio di una nave questa parola non viene più utilizzata tanto anche perché in passato veniva utilizzata appunto in maniera spregiativa prima però di rispondere a questa domanda vorrei spiegarvi il significato di un'espressione essere sulla stessa barca essere sulla stessa barca significa essere tutti nella stessa situazione oppure essere tutti nella stessa condizione il mio canale youtube il mio account su instagram e facebook e il mio gruppo privato su facebook sono tutti strumenti gratuiti che chiunque che tutti voi potete utilizzare per studiare la lingua italiana e per migliorare la vostra conoscenza questi sono tutti strumenti di cui potete usufruire ogni giorno potete fare domande potete confrontarvi con gli altri studenti potete fare gli esercizi ed essere corretti in caso ce ne sia bisogno in maniera totalmente gratuita perché faccio questo lo faccio perché so quanto sia difficile imparare una nuova lingua so quante difficoltà si devono affrontare proprio perché anche io stessa ho studiato tre lingue straniere e so che non è per niente facile inoltre da molti anni vivo all'estero e ogni giorno mi ritrovo a parlare una lingua che non è la mia ho le stesse difficoltà a capire cosa gli altri mi stanno dicendo e le stesse difficoltà nell'esprimermi nel parlare che avete tutti quanti voi quindi mi ritrovo nella vostra identica situazione e quindi possiamo dire che siamo tutti sulla stessa barca ed essendo tutti sulla stessa barca mi piace pensare a tutti noi come un equipaggio di una nave un equipaggio unito e affiatato da qui il mio saluto ciao ciurma ovviamente io utilizzo questa parola in senso positivo e divertente quindi concludendo ciurma significa equipaggio di una nave essere sulla stessa barca significa essere tutti nella stessa situazione e purtroppo siamo arrivati alla fine del video di oggi spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per capire il significato della parola ciurma noi come sempre ci vediamo domenica prossima qui su italia insì ciao ciurma grazie mille per aver guardato il video fino alla fine qui ti lascio un altro video utile per esercitare il tuo listening che spero possa esserti utile se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici che stanno studiando l'italiano ciao e a presto